Buongiorno, siamo qui nello stand Euracom per presentare una novità in anteprima mondiale direi perché è la prima volta che esponiamo questo nuovo strumento per il benessere psicofisico della persona parliamo di Eusonica che presenterà il maestro Crippa che è qui di fianco a me, grazie Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandro, sono un musicista, un compositore musicale e un musicoterapeuta Eusonica è una poltrona che agisce psicofisicamente, attraverso le cuffie mandiamo delle frequenze e attraverso il lettino mandiamo le stesse frequenze, delle musiche, delle autentiche musiche questo permette alla mente e al corpo di muoversi all'unisono, ossia di essere centrati ossia di avere un benessere, perché benessere, il significato del termine benessere è situazione ottimale psicofisica le musiche sono state pensate, i primi quattro trattamenti, con delle metodologie compositive che rispecchiano i movimenti emozionali che vogliamo ottenere perché la musica è composta di vibrazioni che inducono anche emozioni Quando parliamo di benessere psicofisico possiamo parlare esattamente di un'azione cosmetica perché cosmesi deriva da cosmo che in greco significa ordinare, mettere a posto quindi ordinando psicofisicamente raggiungiamo il benessere psicofisico con un'azione cosmetica olistica vibrazionale Grazie 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 Grazie